Salve a tutti chiudegliani e bentornati in questo nuovissimo video di Clash of Clans Fantastico! Allora, oggi siamo qua con il secondo episodio di Clash of Clans sul nuovo PC Va bene, non me lo fotte assolutamente niente Allora, questo diciamo che è un episodio di Road to Max Cosa so, come sono messo? Diciamo, sono messo abbastanza bene Perché sto finendo l'ettore della cera a livello 11 Però adesso no, 1, 2, 3 Una che si sta facendo ancora all'11 e un'altra all'11 Quindi poi me ne mancherà solamente una Finito l'ettore della cera all'11, pensavo di fare, ditemi nei commenti se sbaglio L'ettore dello stregone, così o meno poi me ne levo delle palle Faccio le tesle e le difese aeree E poi dovrei aver finito con le difese Siamo in guerra, siamo in guerra Io sono il terzo e devo attaccare il terzo del clan nemico Tra l'altro ci sono due TH11 nel clan avversario Quindi non so cosa possa succedere È un villaggio mediocre, Archiex al 3 Messo più o meno come metrane per gli Archiex al 3 Qualche mura al 9 E la cera del clan al 5 ovviamente che io non ho Fantastico Allora, per il resto invece ho quasi 5 milioni di Elisir E vorrei vedere un albero No, un albero Penzola, madonna sacco di sudici Piscio Va bene, neanche una gemma, vabbè Minchia, posso fare il laboratorio all'8, non si può fare Con 5 milioni potrei farmi Tanto potrei fare le Valkyrie al 2 non sarebbero male, raga Però devo fare i reali Devo fare i reali Quanto mi costa il Re Dici? 55 mila La regina 65 mila Farei prima il Re io Un altro albero Lo so dove la dai la gemma però, vabbè Prometti Dai, dai Lo so come la darei Allora, andiamo subito ad attaccare, via Tra l'altro ieri poi vi faccio vedere un attacco che ho fatto ieri Di una big big ma proprio big farm Ragazzi ve lo giuro Ce l'avevo tipo 400.000 400.000 Ed era scarso come una Una pigna Sto dicendo questo video che la mattina è tipo prestissimo Non ce la faccio più Ma va panculata questo qua Madonna purezza Madonna che schifo Fatevi esplodere Bravi Bravi Buttiamo i nostri arcieri Olè Ok Devo prendere l'oro Non sto capendo un cazzo Devo usare la visuale Ok Re E regina Ok Arcieri Una bella curetta qua Una bella Oh re barbara Una bella curetta qua Grande Vai vai Estraigli tutto l'oro A quel pezzente Distruggilo Vai così Madonna 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 Quanta potenza signori Quanta potenza 5 milioni di elisir Con 5 milioni di elisir Però potrei fare anche La cosa La trivella al 6 E non è male E non è male Signori Tra l'altro faccio il 100% Madonna mia Madonna mia Olè 5 milioni di 103 mila Di elisir E 28 trofei Quindi Quindi Oltre che essere saliti Lega oro 1 Che questo per me È un onore Incommensurabile Veramente Possiamo migliorare Evidentemente Adesso che ci penso Una trivella A livello 6 Ovvero Maxarla Quindi Non per Io direi di non perdere altro tempo 3 2 1 Via 8 giorni e 7 ore Per la nostra trivella A livello 6 Tra l'altro ho 3 alberi di natale 1 2 3 4 alberi di natale Che cazzo ci faccio Con 4 alberi Va bene Vuol dire che credono molto Nel spospetto Aspetta No Inizia fra un'ora Non preparare i giganti Preparatamente La go weep La go weep Con cui attaccare Ok 3 pecca Io attacco sempre con È un problema questo Non ho più elisir Non ci ho pensato Lasciamo 30 30 Cerchiamo di Di magari trovare uno Che abbia del free loot Del bottino Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Quindi signori Siamo arrivati che al termine Di questo video Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Spero che questo video Vi abbia interessato Vi ricordo anche di passare Dal social Dalla pagina facebook E instagram Che come i miei video In la descrizione Vi ricordo anche Se volete di entrare Nel clan Guerrieri 2 Che è il clan Di uno youtuber Che non mai conosco Siamo a livello 5 Siamo in 40 Su 50 Quindi 1300 trofei Quindi dai ci sta Facciamo tantissime guerre Ah no Prima di chiudere il video Scusate vi volevo farvi vedere L'attacco che ho fatto ieri Questo qua Era scarso eh Cioè va proprio scarso duro Però guardate quanto c'aveva Cioè adesso ditemi Se io non posso attaccare Con uno così Ah 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 Chiuri il conquistatore Delle terre perdute Mettiamo un 2 perche Se no mi scasso il cazzo Qua guardare Ok Ed era Cioè palese Che Adesso non perché Comunque dai Guardate Cioè Cosa devo fare Non posso non fare il 100% Non posso Cioè è contro natura I giganti fortunatamente Vanno in qua Così Si fanno col piede Il cannone E gli arcidi Sono liberi di colpire Tutto il mio deposito D'oro Attivo la fuori Perché c'era la tesla Che mi scassava Il cabasicio Tra l'altro come ho fatto A fare il 100% Ah devo ancora attivarla Fuori dal re barbara Che la attiva di qua adesso Mi sa Esatto Madonna La memoria Poi Niente Qua con la regina Butto giù il cannone Butto giù ancora un paio Di estrattori di resire E vabbè C'avevo ancora tutti i giganti vivi Signori Con i giganti vivi Ancora Cioè Tu veramente vinci Perché ti buttano giù Tutte le difese Non hai più niente Di quel trucco Marti Tranne che quella tesla lì Forse rompeva un po' il cazzo Ma proprio Il minimo indispensabile Adesso non c'ho il re barbara Che rompe il culo all'altro C'ho 10 livelli in più Signori Dove vuoi andare Rubo anche un paio Di resire nero 950 di resire nero Veramente non poco Poi Ah si Qua Vabbè Poi niente Poi 100% Signori Adesso No Come no Vai 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 Adesso 100% Finito Semplicissimo Quindi vi ricordo di passare dai social Vi ricordo anche se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Un bel pollicione in su Vi ricordo di iscrivervi Di commentare E di condividere Da chiudere tutti Ci si beca al prossimo video Ever Back Now